Quindi sono i giovani quelli che proprio... Poi alla fine stanno fuori da tutte queste politiche fiscali. Sì, diciamo che le partite IVA non hanno ovviamente beneficiato degli 80 euro che aveva promesso Renzi, così come non hanno beneficiato i pensionati, così come non ne hanno beneficiato gli indigenti. Di cosa resta il bisogno? Se lei potesse chiedere al governo, potesse chiedere a Renzi in questo caso, un aiuto concreto, cioè da cosa partire? Se rispettasse un decimo delle promesse che fa costantemente a partire dalle date delle riforme, sarebbe veramente già un enorme risultato. Perché se si riuscisse a passare da una politica fatta esclusivamente per slogan e per portare a casa i voti per le elezioni, perché diciamocelo, a questo sono serviti gli 80 euro. Io mi ricordo quando fece Berlusconi la campagna per togliere l'ici dalla prima casa ai tempi, fu accusato di voto di scambio. Questa cosa nessuno l'ha detta però a Renzi. Io sinceramente ci ho pensato... Veramente gliel'hanno detto anche parecchi. Io non gliel'ho potuto dire, ma sicuramente, a mio parere, era un voto di scambio, chiaro come una... veramente limpide, come non so che cosa. E tra l'altro mi dovete anche spiegare per quale ragione le partite IVA non ce l'hanno. E concludo con una cosa, la disoccupazione è adesso oltre il 12%, e non sto parlando di quella giovanile. Quando era all'8%, il Partito Democratico chiese le dimissioni a Silvio Berlusconi. Ora io mi domando, dove sono i sindacati? Dov'è lo stesso Partito Democratico che chiedeva le dimissioni con una disoccupazione all'8%? Silvia, la fermo perché la domanda ovviamente la dobbiamo rivolgere a Taddei. L'unico tema che esce fuori da tutto questo qua è uno, c'era un cartello prima. Basta tasse.